Loredana Lecciso è tornata in Puglia per stare con Albano? Ecco la verità. Dopo quasi tre mesi di lontananza Loredana Lecciso ha deciso di lasciare Pavia per tornare a casa in Puglia nella tenuta Carrisi, la crisi con Albano è acqua passata oppure ci sono altri motivi, che l'hanno spinta verso questo passo? Loredana Lecciso ha deciso di lasciare Pavia per tornare in Puglia a casa sua nella tenuta Carrisi a Cellino San Marco, dopo quasi tre mesi di lontananza durante i quali lasciogirla preferito trascorrere del tempo in compagnia della figlia Brigitta invece che con il compagno Albano, sembra che ora le cose stiano tornando quelle di una volta. Loredana aveva deciso di allontarsi da casa a causa di alcuni problemi sentimentali con il cantante, durante una lunga intervista a Domenica Livella Lecciso ha dichiarato che la sua relazione con Albano navigava in acque movimentate e per questo motivo aveva deciso di rifugiarsi a Pavia dalla figlia. Loredana è raggiunta a questa conclusione dopo le continue frecciatine dell'eterna rivale in amore Romina Power, il ritorno dell'artista americana al fianco del compagno per la serie di concerti, chi li vede duettare insieme dopo più di venti anni, ha contribuito a far nascere alcune incomprensioni tra la coppia Loredana Albano e lei ha preferito prendersi un periodo tutto per sé per riflettere sulla sua relazione. Ora però la Lecciso ha deciso di tornare in Puglia da Albano, segno che la crisi è finalmente acqua passata? In realtà i motivi, che hanno spinto Loredana verso casa sono da ricercare nelle condizioni di salute di Albano Junior, il figlio, che ha avuto dal cantante. Sembra infatti che il giovane abbia avuto un incidente mentre era a scuola e si sia rotto una gamba, ecco che così Loredana ha fatto le valigie ed è tornata nella tenuta. La showgirla è dovuta rientrare a casa in fretta visto anche che Albano non è in Puglia, poiché è impegnato a Milano con le registrazioni del programma The Voice e tra poco partirà per una serie di concerti insieme a Romina Power. Nonostante Loredana Lecciso sia tornata a casa, i due non avranno molto tempo per stare insieme.